Musica Buongiorno principesse, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti nuovo video, il primo del 2016 se non contiamo i vlog che ho già caricato diciamo che questo è il primo video del 2016 a tema beauty, a tema fashion un po' più attinente al tema del canale ho deciso di mostrarvi dopo le tante richieste che ho ricevuto i miei regali di Natale quindi tutto quello che ho ricevuto a Natale e ho ricevuto tante cose quest'anno infatti sono rimasta molto sorpresa e un po' incredula a dire la verità però sono contentissima è stato un Natale molto ricco non soltanto a livello di regali ma ho passato tanto tempo con le persone che amo e appunto è stato un Natale ricco proprio da questo punto di vista perché mi ha regalato tanti momenti belli in compagnia di tante persone speciali quindi sono contenta e spero che sia stato lo stesso anche per voi ormai il Natale ce lo siamo lasciati proprio alle spalle possiamo già iniziare il conto alla rovescia per il prossimo Natale però comunque anche se è un po' in ritardo vi faccio vedere quello che ho ricevuto quest'anno per Natale iniziamo subito da Gigi direi di iniziare da Gigi che mi ha fatto un regalo pazzesco è stato dolcissimo e l'avevo un po' captato il tipo di regalo però non pensavo fosse proprio quello e ovviamente non ve lo posso far vedere qui però vi farò una ripresina mi ha regalato un'impastatrice in particolare una KitchenAid rossa e devo essere sincera io avevo capito che voleva regalarmi un'impastatrice però non avrei mai immaginato quella perché so che è una delle più belle so che è una delle più costose e quando l'ho vista quando ho visto la scatola ragazzi io sono impazzita perché avere quella macchina per me è un sogno sono anni che sogno di avere quella macchina e quindi è stato proprio l'averarsi di un sogno e sono contentissima vi anticipo che di regali a tema beauty non c'è nulla però insomma poi niente volevo fare lo stesso questo video e appunto questa impastatrice mi ha spiazzata completamente sono felicissima poi è rossa io adoro il rosso lo sapete rosso ovunque soprattutto quando c'è aria di Natale poi passiamo invece ai miei genitori i miei genitori mi hanno regalato una cosa che vedete qua mi hanno regalato sempre perché non mi piace il rosso ovviamente mi hanno regalato questo giaccone qui questo è un parca rosso bellissimo, fantastico che dentro ha anche questa imbottitura che sembra quasi una pecorella io lo chiamo così si può anche togliere così si può usare anche nel periodo primaverile o comunque autunnale quando non è proprio freddissimo ed è stupendo è meraviglioso assomiglia tantissimo al mio parca verde che mi chiedete sempre dove ho acquistato quello l'ho acquistato da Zara questo proviamo a vedere se c'è il brand da qualche parte non lo trovo però se lo trovo ve lo lascio qui in sovraimpressione comunque è fantastico perché poi è rosso me l'avete visto anche nel vlog in cui siamo andati all'IKEA è bellissimo sono contentissima di questo regalo poi sempre i miei genitori e sempre a tema rosso perché vi sto facendo vedere tre regali e tre sono rossi comunque mi hanno regalato ci hanno regalato i tappetini del bagno rossi vedete questo ad esempio quello del water quello del bidet so che non è una cosa carina però io sono contentissima di questi tappetini perché se avete visto i miei vlog in periodo natalizio abbiamo acquistato gli asciugamani rossi per il bagno e cercavo disperatamente i tappetini che i miei genitori sono riusciti a trovarmi quindi sono in questo bel rosso che si abbinano alla perfezione ai miei asciugamani e poi dietro hanno anche tutti questi PUA dorati che fanno proprio Natale in realtà sono sono delle specie di gommini per evitare che il tappeto scivoli così si fissa bene alla piastrella e non si muove e non lo so sono contentissima anche per questi tappetini qua sono euforica non so ritirare fuori tutti i regali di Natale mi fa capire quanto sono stata fortunata me lo fa ricordare ancora di più poi passiamo alla mia zietta oltre a una mancia mi ha regalato anche un completino intimo rosso questo è il reggiseno rosso semplice una coppa preformata e questo è lo slip la culotte tutta trasparente tutta aggressive e questo è del brand Jadea che se non sbaglio è quello che pubblicizza Belen mi sembra di ricordare una cosa del genere e poi mi ha regalato anche questo paio di collant di trasparenze e vedete che sono molto molto aggressive molto sexy e hanno sono appunto color carne hanno tutta questa lavorazione che sembra quasi che siano delle autoreggenti e poi questa riga dietro che è veramente bellissima le calze con la riga dietro a me fanno impazzire sono veramente molto belle poi hanno anche tutto il corpettino lavorato sono molto belle come calze molto molto sensuali poi i nonni mi hanno dato anche loro la mancia e loro mi danno sempre la mancia perché mi dicono che almeno posso comprarmi quello che più desidero e non voglio mai sbagliare anche se in realtà poi i regali sono sempre super super apprezzati e poi mi hanno anche fatto vabbè per la Befana e per il mio nomastico che è il 3 gennaio mi hanno fatto il corredo diciamo da cucina quindi mi hanno regalato la tovaglia strofinaccio grembiule e il guanto da cucina tutto a tema natalizio che ho già fatto vedere in un vlog la mamma di Gigi invece mi ha regalato una cosa che desideravo tantissimo da un po' da un po' di tempo ossia il pigiama scozzese aspettate che lo apro bene guardate qua quanto è bello è bellissimo questo è il pantalone e questo è della Benetton questa è una S è bellissimo è stupendo è bello caldo non è troppo pesante come piace a me quindi è perfetto e la parte sopra è carinissima tanto quanto il pantalone perché è questa maglia qui guardate che carina c'è anche Snoopy in versione femminile che ha indosso ovviamente tutti i vestitini scozzesi è carinissima anche la parte sopra è veramente molto bella è bella comoda quindi è un bel pigiama comodo mi piace moltissimo lo sto indossando sempre infatti mi dispiace quando devo metterla a lavare perché insomma va lavato però mi dispiace perché non lo voglio abbandonare poi la mia migliore amica mi ha regalato questa bellissima sciarpa qua tutta colorata tutta luminosissima ed è un regalo molto molto apprezzato io adoro le sciarpe e questa è morbidissima io la sto usando veramente tutti i giorni ed è morbidissima e all'interno ha della seta è per quello che è così morbida ma poi si abbina un po' aiuto si abbina un po' a tutti gli outfit e visto che ha tutti questi colori e poi dà una luce al viso particolare che mi è piaciuta subito la amo questa sciarpa è bellissimissima bellissimissima poi la sorella del mio ragazzo mi ha regalato di Gigi cosa dico del mio ragazzo la sorella di Gigi mi ha regalato questo portafoglino carinissimo è troppo carino con cipeciop è carinissimo sempre la mamma di Gigi mi ha regalato queste pantopole troppo carine sempre della Benetton con Snoopy sono carinissime sono belle calde poi all'interno hanno questo pellicciottino e sono comodissime sono belle calde poi vabbè io adoro le ciabatte aiuto tipo babbucce fatte in questo modo e le adoro anche la Penny tant'è che le ha già puntate le ha già prese un paio di volte devo sempre rincorrerla finché le molli perché sennò me le distrugge poi veniamo ad altri regali che ho ricevuto diciamo in ambito lavorativo ho ricevuto questo qui che è un portachiavi di prima classe dove ho già inserito le mie chiavi della macchina qua dentro c'è praticamente il portachiavi da agganciare ed è carino è molto molto comodo come portachiavi poi sempre al lavoro questa sciarpa qui un'altra sciarpa questa è blu con dei cuori blu scuro nero bella morbida anche questa è molto morbida vediamo se trovo di questa il brand ma non lo so no neanche di questa lo trovo non lo so però è molto bella mi piace molto anche questa è sofficissima morbidissima poi ho ricevuto un sacco di cesti con un sacco di roba da mangiare veramente non potesse capire quanti cioccolatini quante cose da mangiare ho ricevuto anche questo qui che è un contenitore di porcellana proprio dove all'interno c'erano perché ormai sono finiti sono durati poco c'erano dei torroncini che erano la fine del mondo io odio il torrone ve lo giuro ma questi torroncini erano morbidi al cioccolato erano fenomenali veramente li ho divorati più che altro Gigi se li ha divorati però anche io qualcuno l'ho assaggiato erano buonissimi fenomenali ho ricevuto anche un sacco di brutti e buoni che io adoro tantissimo sono dei biscottini tipici della nostra zona precisamente sono nati a gavirate e sono troppo buoni io li adoro sono delle specie di meringhette che però hanno all'interno le nocciole io li adoro tantissimo fanno anche ingrassare tantissimo però sono troppo buoni poi cioccolatini appunto di vario genere tisane proprio cesti con dentro un sacco di cose da mangiare buonissime che stiamo ancora finendo adesso quindi non siamo ancora riusciti a finirli poi una mia collega mi ha regalato questo qui che è uno stampo dei biscotti aiuto c'era dentro un'etichetta lo stampo dei biscotti e si compone di due l'ho già aperto ovviamente si compone di due diversi di due diversi stampi e la cosa figa di questo stampo è che voi sopra uno stampo stendete la vostra pasta dei biscotti la pasta frolla poi applicate sopra l'altro stampo che ha le stesse dimensioni le stesse formine schiacciate col mattarello togliete e vi rimangono i biscotti da un lato e dall'altra parte tutta la pasta di scarto diciamo così quindi è una cosa utilissima poi sempre la stessa ragazza che mi ha fatto questo stampo mi ha regalato anche una decorazione che abbiamo appeso al muro che quindi non posso farvi vedere qua ma comunque ve la faccio vedere molto bella che ha sia una parte specchiata che una parte colorata è veramente molto bella a noi piacciono molto quelle decorazioni da appendere al muro fatte in quello stile poi sempre al lavoro questa candelina con il porta candela molto carina mi è piaciuta subito poi aiuto un'altra candela questa qui è una Yankee ovviamente sanno che io adoro le candele sanno che io adoro le Yankee tutte queste cose di questo genere questa è una di quelle candele natalizie si chiama Christmas Garland e sa tantissimo di pino sa proprio di pino però pensavo che non mi sarebbe piaciuta in realtà quando l'ho accesa non sprigiona questo profumo di resina diciamo così è molto più delicata quindi ho sempre evitato queste profumazioni pensando che fossero troppo troppo aggressive per quanto riguarda i miei gusti invece no una volta accesa è molto più tenue molto più dolce meno aspra diciamo così e quindi mi è piaciuta molto anche una volta accesa infine vi faccio vedere il mio autoregalo di Natale perché oltre ad aver fatto regali agli altri mi sono anche concessa un regalo dopo Natale i primi di gennaio e ve la faccio vedere subito inutile che ci gira intorno ed è questa qui è una macchina fotografica nuova una compatta nuova per fare i vlog la sto già utilizzando e la differenza si vede come è una macchina pazzesca ed è questa qui ed è della Sony il modello è mi sembra la XR100 dov'è che c'è scritto? aspettate RX100 c'è scritto qua ed è pazzesca è una macchina veramente pazzesca era un po' che pensavo di acquistare una macchina nuova per i vlog perché la mia non so se l'avete notato ma ultimamente mi dava problemi di messa a fuoco mentre stavo registrando perdeva improvvisamente il fuoco e poi dopo dopo un po' tornava la qualità non era proprio il massimo e quindi ho fatto delle ricerche su internet e ho acquistato questa qui che poi è anche leggerissima piccola però anche maneggevole quindi se state cercando una macchina fotografica per fare vlog ma anche per fare video beauty perché io voglio utilizzarla prossimamente anche per fare dei tutorial o comunque dei video come questo è una macchina pazzesca veramente è veramente molto bella ha una qualità una luminosità la qualità dell'immagine veramente è fenomenale mi sembra quasi di vedere la qualità di una reflex se devo essere sincera quindi poi vabbè giudicate anche voi dai vlog che vedete in questo periodo fatemi sapere che cosa ne pensate e io spero di avervi fatto vedere tutto questi sono tutti i regali di Natale che ho ricevuto lo so sono tantissimi e però devo dire che la mia gioia nel ripensare al Natale non è legata ai regali perlomeno non solo ai regali sono felice di aver ricevuto tutte queste cose ma di più sono contenta di aver passato tantissimo tempo con le persone che amo con la mia famiglia con Gigi con la Penny e sono stata contentissima di questo Natale spero appunto che sia lo stesso anche per voi vi mando un bacione grande spero che questo video vi sia piaciuto ciao